... Termina questo speciale in casa Savoia dando la parola alla guida tecnica Mister Sensazioni, gruppo valido, compatto, qualitativamente davvero completo su tutte le premesse per una grande stagione, a patto che? Io a prima cosa devo ringraziare il Presidente, devo ringraziare il Presidente e il Direttore perché mi hanno permesso di ritornare a Torre Annunziata dove ho lasciato un'incompiuta ma soprattutto mi ha dato modo di allenare una squadra importante una squadra importante ma soprattutto a livello di Umi un gruppo che sembra che stiamo lavorando da due anni insieme penso che, pensavo che, di non aver lasciato mai il Savoia nonostante che sono cambiati tutti gli uomini però lavoriamo con un grande sintonia con tutto lo staff e con tutta l'organizzazione che ci dà il Direttore insieme al Presidente e a Pannona È una squadra dal primo giorno e questo è importante non si entra a campionato in corso naturalmente le scelte fatte in termini di campagna acquista hanno la tua piena, totale approvazione vuol dire che dal primo giorno stai allestendo, stai dirigendo gli allenamenti è una squadra che ha il tuo carattere, la tua somigliata, la tua mentalità vincente quindi abbiamo visto gli allenamenti, sei un medicoloso amo ripetere gli esercizi perché non vuoi tralasciare nulla vuoi preparare al meglio, vuoi presentare al meglio è una squadra che dia soddisfazione e che rappresenta la piazza con grande orgoglio Logicamente sì, io penso che questa squadra se ha la giusta mentalità, ha l'umiltà, la cattiveria, la determinazione io penso che abbiamo la strada già in discesa perché questa è una squadra di qualità sia di uomini che di calciatori quindi con la giusta cattiveria, con l'umiltà penso che noi sappiamo che stiamo a Torre Anunziato per fare qualcosa di importante e lo dobbiamo fare, ma lo dobbiamo fare sul campo, non con le chiacce Naturalmente l'altra tua esperienza, nessun volo pindarico perché gli avversari non staranno a guardare e faranno la guerra al Savoia e a Onitoperica No, ma questo è un campionato come l'anno scorso è un campionato di serie D perché noi, anzi, ti dico che è ancora migliore nel senso che ci stanno ancora più squadre agguerrite cioè magari in prima fila ci sta Savoia, Fragolise, Putiolana ma subito a ridosso ce ne stanno 5-6 ci sta Sessana, ci sta Giuliano, c'è il Casoria c'è il San Giorgio che ogni anno fa miracoli sul campo e fuori dal campo e poi c'è sempre la Maddonese che sta costruendo una discreta squadra con un grande allenatore ma pure il Mondragone ritorna Carannanti in sella che è una vecchia volpe sicuramente è un campionato agguerrito in tutti i sensi Grazie a queste interviste e saluto finale agli amici di SportEvent da parte dell'elettore del Savoia seguite lunedì SportEvent perché ci sarà divertissimo con le immagini della squadra Mister, il tuo invito a seguire SportEvent naturalmente con l'impegno di vederti in trasmissione quanto prima Io vi devo fare i complimenti per come conducete soprattutto questa operazione in campagna che è importante siete un veicolo importante per tutti quanti, per i tifosi, per gli addetti ai lavori, per le società e vi faccio i complimenti di vero cuore